Il comune di Santo Stefano di Cadore ha deciso di proclamare per domani il lutto cittadino per onorare la memoria delle vittime della strage di giovedì scorso in cui hanno trovato la morte Marco Antoniello, il figlioletto Mattia e la nonna Maria Grazia Zuin. Una dimostrazione formale, ufficiale di vicinanza e di partecipazione da parte di un paese che fin da subito ha vissuto come proprio il dramma della famiglia di Favaro Veneto, portando fiori, lumini e soprattutto tanti pelusci sul luogo della tragedia. Un'ultima carezza a Mattia, morto a neppure due anni. Anche chi è solo di passaggio si ferma a dire una preghiera. Una prosecuzione di tutto quello che abbiamo fatto in questi tre giorni, quindi venerdì la prima cerimonia religiosa. Sabato mi hanno detto che ne hanno fatto un'altra. Poi abbiamo sospeso tutte le varie attività turistiche, eccetera. Quindi io credo che sia una conseguenza logica. Terminiamo questi tre giorni, quattro giorni di lutto con il lutto cittadino, esposizioni delle bandiere a mezz'asta, gli uffici pubblici sono chiusi per il pubblico e un minuto di silenzio a mezzogiorno. E domani sarà anche il giorno dell'udienza di convalida dell'arresto di Angelica Utter, la 32enne tedesca al volante dell'Audi Nera, sfrecciata a oltre 70 km orari in centro a Santo Stefano e piombata all'improvviso sulla famiglia che stava passeggiando sul marciapiede. Una dinamica che insieme al racconto della violenta lite che la donna aveva avuto poco prima di risalire in auto fa ipotizzare che Angelica possa aver deliberatamente deciso di travolgere le sue vittime per sfogare una rabbia incontrollata. La 32enne pare vivessi in macchina dallo scorso ottobre il suo legale chiederà che venga rimessa in libertà ma il timore di inquirenti e familiari è che possa lasciare l'Italia a Favaro ha intanto fatto ritorno Elena Potente, mamma di Mattia, compagna di Marco, figlia di Maria Grazia il mio, ha detto solamente, è un dolore troppo grande. Ai funerali congiunti sarà presente anche una rappresentanza di Santo Stefano di Cadore Mi sono già messo in contatto con il parroco, ci avvisano in tempo e io, il vice sindaco e molti consiglieri saremo presenti.